Educare, sensibilizzare e informare al rispetto dell'identità di genere, coniugando arte, comunicazione e attivismo culturale. E' questo l'obiettivo abbracciato da Nessun Exclus, progetto che eleva l'inclusività di genere fin dal livello linguistico, rimarcando una desinenza significativa come la schwa o è rovesciata che dir si voglia. Un progetto multidisciplinare proposto dal collettivo Truth Inside Females. Il collettivo Truth Inside Females è nato dalla fusione di tre mondi, dal mondo comunque del design e dell'educazione all'intimo femminile, sviluppo dell'innovazione, alla scrittura creativa e di un linguaggio che vuole essere sviscerato e alla medicina antropologica, che quindi si avvicina alla figura del corpo femminile nella società. E siamo un collettivo che è a base in Italia e all'estero e collaboriamo con chiunque voglia cercare di sviscerare dei tabù nella società e di cercare di farlo tramite un dialogo. E noi lo facciamo tramite laboratori. In questa occasione collaboriamo con Valentina, che è una performer, e quindi siamo molto contenti di sostenerla e di cercare proprio di parlare di questi generi e stereotipi di genere. Il progetto è stato presentato in comune a Pesaro dall'assessore Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci, nonché dall'assessore alle pare opportunità di Fano Sara Cucchiarini, tutte unite in un applauso senza campanili nei confronti di un percorso che abbraccerà il dibattito su stereotipi e violenza di genere, nonché sulla discriminazione d'orientamento sessuale. La mentalità con la quale è nata questa collaborazione è stata ampia, perché la volontà era proprio quella di creare un connubio tra il dialogo, quindi la parola, ma anche la scrittura, i colori e di conseguenza l'arte. Tutto quello che è linguaggio, pensiero creativo, pensiero anche che possa sviscerare l'emozione, e quindi lo stato d'animo, noi cerchiamo di portarlo alla luce. Quindi è questa la nostra volontà, sin dall'inizio, sin dalle origini, e con Nessun Esclus cerchiamo proprio di abbracciare tutto quello che è non solo lo stereotipo, ma anche proprio un sentire che vuole diventare collettivo, appunto. Il progetto Nessun Esclus comprende i laboratori e una performance. I laboratori saranno il 16, il 18 e il 20 agosto, dalle 18 alle 22 alla Giardino del Biblioteca San Giovanni, e sono laboratori totalmente gratuiti, aperti a tutte, tutti e tutto. Invece l'azione performativa sarà il 26 di settembre, quindi una domenica, a Fano. Abiteremo il centro storico in maniera creativa per arrivare poi al cortile del Nespolo di Palazzo Bracci. Grazie.